Un aiuto concreto a chi ha bisogno e privo di tutto decide suo malgrado di vivere per strada. Soli, al freddo e al gelo, si arrangiano come possono, cercando di superare un'altra notte e un altro giorno, aspettando un tempo più mite. Proprio in questo periodo in cui è emergenza neve, i volontari della Caritas di Berletta si adoperano per portare il proprio sostegno a chi è in strada. È stato predisposto infatti un servizio di assistenza per i senza dimora. In azione, soprattutto nelle ore serali e notturne, il pulmino dell'unità di strada della Caritas Cittadina di Berletta. Con le nostre telecamere abbiamo seguito i volontari durante una missione di carità. Si parte dalla sede della mensa della Caritas Cittadina in via Barberini, dove si prepara con cura latte caldo e teccaldo. Poi si organizza il giro da effettuare, individuando i punti della città in cui si trovano le persone da raggiungere. Armati quindi di brioche, biscotti, bevande calde ed equipaggiamento per ripararsi dal freddo delle notte, coperte e sacchiappelo termici capaci fino a meno 20 gradi, i volontari con il direttore della Caritas di Berletta, Lorenzo Chieppa, hanno messo in moto il pulmino della Carità. Un pulmino che non porta solo cibo e rifocigliamento, ma che rappresenta la speranza, l'attenzione all'altro. I volontari donano anche una parola di incoraggiamento, di interessamento, un sorriso, una pacca sulla spalla. Per chi è solo e vive per strada è importante non solo avere un riparo fatto di cartoni, di una tenda, di un sacco a pelo, ma anche sapere che c'è qualcuno che pensa a lui, che passa a chiedere se ha bisogno di qualcosa, che si interessa alla sua esistenza. E forse in tal modo riesce a trovare la forza per non lasciarsi andare e continuare così a combattere. Un'esperienza quella del soccorso in strada che permette anche di conoscere storie davvero toccanti. Il pulmino della Carità distribuisce bevande calde, ma anche parole che riscaldano il cuore. Sacca a pelo, funziona? È termico, va bene? Sì, va bene, sì. Beh, buonanotte Giovanni. Buonanotte Giovanni.